Parte dalla Val Vibrata e nel settore della produzione dell'energia alternativa la maxievasione di 22 milioni di euro scoperta dagli agenti del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Teramo. A copertura del grosso giro di ricavi nascosto al fisco c'erano sì delle regolari dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2010 al 2012 ma con le indicazioni di un giro di affari insignificante, spesso di soli pochi euro. L'azienda che opera nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti per l'industria, l'edilizia e la produzione di energie da fonti rinnovabili effettuava transazioni economiche per importazioni di merce dall'estero soprattutto dai paesi asiatici per somme di oltre 12 milioni di euro, merce poi rivenduta sia in Italia che oltre i confini nazionali. Tali movimenti economici venivano nascosti all'anagrafe tributaria facendo risultare periodici versamenti dell'IVA di circa mezzo milione di euro. I finanzieri attraverso complessi incroci in banca dati sono riusciti a ricostruire poi rapporti con i clienti e fornitori a livello nazionale tracciando le transazioni nascoste al fisco. Ne è venuto fuori un quadro di evasione che ammonta in totale a 22 milioni di euro, di ricavi non dichiarati adesso segnalati all'Agenzia delle Entrate per l'accertamento, redditi sottratti a tassazione per oltre 10 milioni di euro, un'imposta evasa ai fini Ires per oltre 2,8 milioni e un'evasione dell'IVA per oltre 3,6 milioni di euro. Nel rapporto al magistrato anche la denuncia dell'amministratore della società, un 64enne di Treviso. Nei suoi confronti il reato ipotizzato è quello di infedele dichiarazione dei redditi e dell'IVA.